In volo con voi è un salto, è voglia di essere... Loro invece hanno continuato a battere sempre meglio, attaccare sempre meglio, è stata una partita in salita per tutti i tre set. Adesso un derby con Verona, importante perché comunque si sa Verona ha molto in crescita con l'arrivo di Kazischi, però secondo te come bisognerà interpretare quella partita? Sicuramente l'arrivo di Kazischi a Verona è andato a migliorare una squadra che già quest'estate era ottima. Dovremmo interpretarla come una partita difficile, però in cui possiamo giocarci le nostre carte. Abbiamo Siena e Michele che in campionato abbiamo sempre fatto bene contro di loro nella storia, quindi ci aspetterà una partita difficile, però siamo consci comunque delle nostre qualità, le abbiamo dimostrate e contro Verona credo che ci rifaremo di sicuro.